Uè non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! XIODERONE! Nella casa di John Wick, qua dietro lo distruggiamo, grill numero uno, fatto! Non dobbiamo spostarci molto dalla casa di John Wick, siamo a Palmetto dove ne troveremo ben due ragazzi Il primo, eccolo qua, vicino alla casa, quella con la piscina piccolina, avete sicuramente capito di quale sto parlando Mentre il secondo si trova un pochettino più in centro, se non ricordo male dovrebbe essere esattamente qua Quindi nella piccola piazzetta centrale ne distruggiamo due al prezzo di uno Non spostiamoci ragazzi dal bioma del deserto, scendiamo da Palmetto Paradisiaco fino a questo punto ragazzi Avete capito benissimo dove siamo, insomma dove ci sono il camper, il camion e il falò Ed ecco qua ragazzi che il grill numero 4 è fatto Per il grill numero 5 invece, l'ultimo del bioma del deserto, dobbiamo andare nella piccola oasi Sempre vicino a Palmetto ma sulla sinistra, l'oasi è proprio questo ragazzi E come vedete davanti a noi, grill numero 5, fatto! Approfittiamo ragazzi del fatto che eravamo vicino alla isola del bioma del deserto Per raggiungere il campeggio ragazzi, avete capito dove siamo ovviamente Nel campeggio quello vicino ai grandi magazzini, questa zona qua Dove, come vedete qua, c'è il grill numero 6 Lo distruggiamo, penultimo grill Fuori avanti rispetto al campeggio ragazzi, raggiungiamo i grandi magazzini Per la precisione, dove c'è l'ultima casa Prima degli anelli dei condotti E come vedete, spacchiamo anche il grill numero 7 ragazzi Completiamo così la sfida dei 14 giorni d'estate L'ultima, prima di salutarvi vi lascio anche una mappa completa In modo che possiate vedere se ci sono altri grill più vicini A dove siete, vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video Mi raccomando, un bel pollicione in su Iscrivetevi al canale, noi ci vediamo alle 15 con il fortbite Ciao